Salve ragazzi, bentornati sul mio canale youtube, sono Luca Mariani, oggi siamo ancora una volta con The Last Guardian Abbiamo appena dato da mangiare al nostro trico ferito, portandogli un barile, ora si è rialzato E col nostro aiuto, col suo aiuto dovremmo riuscire a spostare, spero Questa specie di carro Ah, ce n'è un altro Vediamo un po' Qua riusciamo a salire Vediamo Dico Ok, sembra che è entrando Vediamo Il nostro trico, vedere dove ci porta Si ci porta Da qualche parte Dicetà Vediamo C'e deciso Il nostro di amici Il nostro di amici Va Ma che cacchio è stato quello? Una penetrazione? Ma che sta facendo? Dobbiamo scendere ragazzi Eh non vedo Ok 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 forse dobbiamo andare a riprenderlo da lassù dico va o non va ragazzi non so se non so ancora non lo so ragazzi perché Trico non prosegue mannaggia o sti comandi io ho la telecamera ragazzi non so dai dai non entra dai dai Trico Trico che stai facendo niente rimane fermo lì nooo ce l'ha fatta dai mamma mia ragazzi che fatica e adesso Trico 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 dai eh ma senza Trico non andiamo lassù dai Trico portaci fuori da qui bravo ole finalmente finalmente allora la c'è un'apertura mi sembra no no qua è dove siamo venuti non va ma ma cosa fa ma cosa fa ma non ho capito cosa fa ragazzi allora 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 possiamo arrampicarci quassù no qua no qua no ma che cacchio fa pazzesco a volte però sto gioco c'è forse Trico ok vediamo un po' che dici Trico andiamo ah no ah no c'è ancora quel maledetto vetro andiamo a scendere allora se noi andiamo qua su qua su sento sento che succede ci sono più Trico ci sono più Trico vediamo un po' dove ci porta ah fa il giro lungo oh no no mannaggia è ancora bloccato proviamo a scendere eh ma no così con cautela facciamogli equilibristi dai facciamogli equilibristi ragazzi tanto ammiriamo tanto ammiriamo il paesaggio le rovine sotto di noi nulla ok ok qua non possiamo andare riusciamo a rampicarci in questa sorta di edera qua su non riusciamo la c'è un'altra corda non ci va verosimilmente cosa fa dove va va ritorno in là che succede una compenetrazione ok ok vediamo un po' ok quindi immagino dobbiamo salire di qua ok ok penso che siamo arrivati al dunque quindi se noi andiamo qua ma dove sta attaccata ma dove sta attaccata su ah quel tirante che va nell'altro minareto non so cosa sia colonna molto lento molto lento il gioco ragazzi è un gioco è un gioco diverso dai soliti bisogna viverlo così dove va Trico ah ci rissegue di là però poi dopo si si ferma con quel che fa adesso il coroso dai oh Trico non so come ah ok scendiamo di qua va bene ok 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 perfetto bravo grazie e ah va bene mi rimette sopra la sua schiena eh Trico dove andiamo che ora ma non dovremmo prima però ok ok Grazie a tutti Lassù ci sono altri vetri, ah no, ahiaia, un altro vetro ragazzi. Qui non riusciamo, eh ci pensi tu però, ci pensiamo noi, però sempre sti maledetti vetri. Ok, dobbiamo spingersi da leva, mannaggia. Trico, ci devi aiutare. No! Beh, dovevamo aspettarlo? Ok, dobbiamo rifarla, la stessa procedura. Verosimilmente. 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 Ehm, ah, è qua. No, dov'è? Qua. Qua. Windy? Ehm, pericolo. Ci prendi, Trico? Ok. Come? Ok, sulla sua coda ci siamo salvati. Ora dobbiamo capire... Se Trico intende proseguire o farci penare ancora... Dai. Dimmi che non c'è un altro vetro, per favore, perché... Sti vetri hanno rotto... Secondo me i vetri erano un sistema di difesa che metteva questa civiltà passata per tenere lontani questi esseri come Trico. Immagino io, eh, non l'ho letto da nessuna parte, è una mia dedizione da quello che riesco a intendere in questo gioco giocando, perché è ancora tutto assolutamente misterioso. Ok. 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 Guidalgo. a 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 chi è questo bene ragazzi io penso che per questo gameplay possa bastare così abbiamo visto il nostro trico che è sprofondato dopo aver incontrato un sussimile in questa dentro l'edificio quindi immagino che adesso dovremmo proseguire qua dentro spero che comunque il gameplay vi sia piaciuto se così fosse vi invito a lasciare un like magari vediamo un attimo l'inizio di questa di questo di questa parte poi proseguiremo nel prossimo eccolo qua il nostro protagonista è rimasto impigliato qui su sul sul impigliato in un ram di un albero e e non so cosa dobbiamo fare ci dobbiamo muovere ma ricco come che è rimasto sconvolto e e e Bene ragazzi Immagino che Trico dovrà venirci a prendere Ok ragazzi ci fermiamo Qui Grazie